Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, recensione, opinione, spacchettamento sul nuovo topolino ed è uscito il nuovo topolino con il gadget sapete che io non faccio mai la recensione sul topolino perché ce ne sono tantissime su youtube ma quando esce un gadget direi che è doveroso dovervelo far vedere in questo caso, è il primo di questo canale, lo apro perché io i topolibri li ho sempre aperti e li ho sempre letti quindi trovo insensato chi lo tiene anche incartato ve lo farò vedere qui da vicino nella prossima videocamera allora questo è il topolino bellissimo c'è infatti un volume sulle più belle copertine del topolino 2019 che è un volume che già dovrebbe essere uscito ma che per i problemi che sappiamo tutti non è ancora uscito e devo dire che lo prenderò perché da quell'anno è stato l'anno di svolta l'anno scorso è stato l'anno di svolta sulle copertine che sono migliorate un sacco questo grazie a Freccero che è un po' coordinatore dei disegni che le ha veramente rese uno spettacolo tra l'altro, magari mi sbaglio voglio vedere anche la prossima di copertina guardate che bella è veramente fantastica ma mi sembra che ci sia un'altra variant cover dedicata a questo numero che però non so se è presente come pubblicità in teoria sì, però non... pare non trovarla ovviamente c'è tutto un allegato dedicato a Raffaello perché è uno speciale a lui dedicato e ovviamente il protagonista di questo video ovvero questo topolino cartonato che racconta la storia dell'arte anzi, ve lo faccio vedere qua sei storie per immeggersi nell'affascinante mondo delle immagini complice alla potenza del fumetto un viaggio alla scoperta degli artisti che hanno raccontato la storia dell'umanità attraverso pitture, sculture e architetture vediamolo più da vicino ed eccolo quindi, si presenta in questo modo il topolibro come dimensioni siamo leggermente più alti forse in un topolino normale come grandezza invece ovviamente molto più spesso anche perché ricordiamolo che è cartonato questa è la copertina, bellissima bellissima, non so chi l'ha fatta ma lo andremo a omaggiare anche l'autore bello anche il retro bello anche proprio al tatto, al tocco veramente molto interessante il tutto è costato mi pare 8,90 euro quindi in realtà c'è anche un piccolo sconto perché da solo questo costerebbe 6,90 il topolino sono 3 euro quindi invece che 10 sono 9 euro per cui ci sta anche onestamente la prefazione di Giovanni Mucciaccia perché non lo sapesse è il signore che fece Art Attack per chi un po' comincia a essere meno giovane come me per me Giovanni Mucciaccia è stato un idolo dell'infanzia bellissima la copertina questo è il sommario di storie che non tutte io ho letto allora sicuramente quelle sopra il 3000 le ho lette tutte perché ne sono sicuro mi manca sicuramente Pippo dalla Francesca forse e il primo fumetto della storia e anche Maestro Topolinius vediamo se c'è scritto la copertina di chi è ma non sembrerebbe Gabriella Vallera ha coordinato tutti i redazionali e guardate che bello a me piacciono i topolino i fumetti in cui c'è anche un minimo di storia un minimo di redazione un minimo di articoli di elaborato quindi Giovanni Mucciaccia che è questo grandissimo idolo delle masse della mia età ma anche penso di tante altre annate ci ha omaggiato di questa sua piccola intervista ovviamente ci sono dunque le storie delle curiosità prima di ogni storia per esempio questa qua di sicuro non l'ho ancora letta una curiosità sulla grotta che si va a vedere e sulla pittura in questione e io penso che esattamente davanti prima di ogni storia vi è appunto una propria una piccola un piccolo elaborato ecco queste sono le cose fatte bene secondo me io ritengo che l'iniziativa del topolibro perché ora vi farò vedere anche gli altri guardate che belle anche queste immagini semplici ma efficaci sia l'iniziativa più bella della storia del topolino perché non si è mai visto fino a ormai quattro anni fa no tre o quattro anni fa un topolino cartonato di queste dimensioni con delle storie così tematiche guardate che bella questo disegno con degli elaborati dei redazionali delle immagini su misura insomma bello poi c'è questa storia che è bellissima topolino canova che guardate solo la bellezza di questa di questa immagine io me lo ricordo perché uscì per il napoli comic con mi pare o per l'etna comics una copertina dedicata a topolino canova è una storia molto molto interessante molto bella che esce forse un po' dai canoni di topolino tutto questo fumetto di per sé esce un po' dai canoni ma insomma vediamo i nostri protagonisti in situazioni in questo caso dell'arte bello 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 bellissimo questo è il quinto topolibro che uscì che sta uscendo appunto per la panini vi faccio vedere per completezza anche gli altri quattro in ordine cronologico perché uscì questo primo il topolibro che in realtà come possiamo vedere usciva ancora con il numero in questo caso il numero non c'è più perché è come se fosse un fumetto a parte di per sé lo è usciva col numero 3208 questo è la fattura è sempre la stessa è sempre questa c'è un piccolo redazionale la storia e prima di ogni storia c'è sempre un redazionale bello 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 devo dire che sono sempre migliorati i topolibro non tanto per le tematiche ma anche per l'impostazione dell'elaborato che c'è prima quindi questo qua fu il primo poi abbiamo avuto il maggio del 2018 quest'altro di Silvia Ziche inconfondibile il suo tratto anche qua come potete vedere cambiava la costina ulteriormente ma ancora vi era il numero vi era il numero collocato e anche qua si parlava dedicato sempre al Salone del Libro di Torino con la stessa organizzazione ora non so se c'era un'intervista iniziale ma direi che forse l'intervista c'è solamente con Giovanni Mucciacci ovviamente in questo perché si parla di arte come possiamo vedere c'è sempre un redazionale e poi la storia ormai non ve lo ripeto più poi l'anno scorso direi uscì il topolino il gioco del mondo per la prima volta venne tolto il numerino e questo è quanto insomma ovviamente sempre con la stessa impostazione storia redazionale storia redazionale ovviamente di una pagina ma è meglio che niente meglio veramente che niente e poi dulcis in fundo abbiamo un topolino che per la prima volta non viene fatto in occasione del Salone del Libro ma semplicemente un toposcienza in cui abbiamo la prefazione di Piero Angela sempre con lo stesso metodo organizzativo non ve lo dico più ormai ragazzi questa iniziativa io la ritengo sia la più bella di tutti di quelle che hanno fatto ad oggi veramente non c'è roba più più bella di avere il topolino incartonato delle storie cartonate e ovviamente a questo prezzo e a questo piccolo formato perché sì abbiamo le Super Deluxe ma questo secondo me è il formato migliore che dire poi delle copertine le copertine stanno migliorando a vista d'occhio sono sempre più belle e vi devo un po' informare se in effetti c'è una variant dedicata a questo topo e mi pare di sì però stanno avvenendo la pubblicità tanto chissà quando mi arriverà e a suo punto se arriverà però mi pare di averla vista e vi farò sapere eventualmente per oggi ragazzi è tutto mi faccio anche vedere così che vi saluto ci vediamo a un prossimo video una prossima recensione una prossima video più o meno del canale ciao ragazzi alla prossima buona lettura a un prossima video